Sì, buonasera a tutti, sono Sidney Sibilia, il regista di Oggi Gira Così, quel corto che avete appena visto, oppure che state per vedere, dipende dalla programmazione. Salve la clip, ciao ragazzo, buonasera. Lui è Fabio Ferro, che insieme a Matteo Rovere è fautore e produttore di questo progetto. Innanzitutto vi ringraziamo tanto per essere lì al festival, con un lavoro. Per averci selezionato. Esatto, ci dispiace moltissimo non poter essere lì da voi, ma purtroppo siamo già al lavoro ad un altro progetto. Sì, è centrato in un altro progetto, anche abbastanza all'improvviso, quindi siamo qui a lavorare giorno e notte in un ufficio. Tra l'altro a morire di caldo. Il climatizzatore si è rotto, una serie di sfortune. Quanto vi invidio a voi lì al festival, al fresco, capito? Perché queste manifestazioni sono fresche. Sì, perché poi si tengono sempre in posti bel d'estate. D'estate, d'estate. E noi qui a morire di caldo. Vabbè, ma spero che ci sia un'altra occasione. Non è qua a soffrire e loro qua a divertirsi. A divertirsi. La divertirsi. E vabbè, è un po' come vengono le cose. Il nostro compito è quello pure di far divertire. Di intrattenervi e quindi è giusto soffrire per intrattenervi. È un peccato però non essere nel momento in cui c'è il contatto magari autore pubblico che sarebbe proprio... Che bellezza, che bellezza. Vabbè, noi vi ringraziamo, grazie di tutto e... Poi in bocca al lupo e agli altri partecipanti, ragazzi, che venga il migliore. Grazie, un saluto a tutti. Un abbraccio. Grazie, ciao. Spento? Sì, sì, sì. Vabbè, basta. Togliatene pure tranquilli. Tocca di dare una mancia ai ragazzi. Gliela toglie subito, però ci andiamo un attimo a prendere una cosa a bar. Grazie a tutti.